Eccoci a noi, buonasera, com'è andata Pasqua? Ho mangiato tanto? Ho mangiato bene? Ho mangiato poco? Allora, abbiamo questi elementi oggi come varianti perché siamo da un'altra parte, niente pupazzetti altrimenti devo usare l'oliera e l'acetiera, non lo so comunque le boccette dell'olio e dell'aceto sono le uniche due cose qui che potrebbero servire da segna mazzo, però sono troppo grandi quindi useremo questi gancettini qui, questi cosetti per chiudere le bustine verde e giallo, allora, questa sera, poiché la mia connessione va male 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 non posso fare un video troppo troppo lungo, però inauguriamo intanto questi perché qui ho altri mazzettini di carte ancora non utilizzati però sappiate già, è stata fatta la meditazione, consacrati tutto il percorso è stato fatto poi nell'arco della giornata di oggi quindi, quale giorno più propizio? intanto mi mescolo nuovamente e andiamo a vedere, situazione, cosa devo fare adesso? questa è la domanda non so se riguarda il lavoro, l'amore, non ho idea una rapina, magari qualcuno sta organizzando tipo prendi soldi e scappa di Woody Allen film divertentissimo una rapina e questa rapina non riesce ovviamente ho scherzo, non andate a rapinare nessuno perché tanto comunque non si prende nulla però è per dire che non sappiamo l'argomento prima di iniziare a vedere ciò che verrà fuori allora, allora, allora lasciatemi pure i vostri commenti se vi fa piacere per info sui consulti privati si ricomincia nei prossimi giorni e non so e raccontatemi di voi se vi va mi piace leggere quello che scrivete soprattutto quando si riesce a mantenere un clima cordiale anche nello scambio di opinioni sul canale allora io direi di iniziare però potremmo usare queste carte per vedere la situazione e poi potremmo usare eccole qua i tarocchi pagani per vedere il consiglio ok iniziamo da questo qui verde cosa abbiamo per la prima variante? sembra un paesaggio incantato siamo nel fondo del mare abbiamo i resti di un'antica civiltà ma cadono tutte le apparenze cioè questa carta sembra volervi dire hai lottato tanto hai faticato tanto la carta del papa hai accumulato una carriera un denaro ti sei impegnato per le cose umane per lo stato per la religione abbiamo i resti di un impero il commercio le navi eppure adesso è tutto fermo è tutto immobile tutto sembra sotto un incantesimo addormentato però è quasi il riposo del guerriero d'altronde essendo una carta di profonda saggezza il papa questo drago che sta riposando potremmo pensare al drago dell'apocalisse che dopo un tot di casini che ha fatto viene messo a riposo per un bel po' il drago non verrà mai ucciso la kundalini la passione tutto ciò che ti ha fatto mettere a ferro e fuoco il mondo e ora devi placare l'animo però in maniera serena quasi a dire ero talmente stanca talmente stanco che io adesso voglio riposare mi serve una fase di letargo l'animale ferito scappa come fanno anche i gatti si nasconde sta fermo fino a quando non recupera e se proprio dovessi salvare qualcosa della mia vita passata di tutto quello che ho fatto fino ad ora lascerei ben volentieri le cose umane per salvare forse qualcosa di affine con la mia anima però questa carta ci viene a dire che non c'è statua che non torni polvere marmo che non si corroda tutto alla fine tutto alla fine cede al tempo si dissolve e tutte le ricchezze accumulate o anche le convinzioni le morali alla fine sono polvere sono figlie del tempo e con il passare del tempo passano anche loro e sulle vestigia e sui resti e sulle macerie di quello che è stato nascerà qualcosa di nuovo che sicuramente manterrà ciò che di buono si può ancora recuperare del passato quindi non andate a perdere del tutto il mitreo vi diventa chiesa dove si celebravano i culti pagani e poi sono sorte le basiliche cioè comunque c'è una continuità solo che la sopravvivenza anche la vostra diciamo pretende capacità di riconversione di convertirsi ricordo e andiamo avanti per spiegare ancora questa carta e il suo significato che una delle diciamo degli aspetti che salvò la Russia durante la guerra e che la rese veramente forte fu la sua capacità di riconvertire con una velocità pazzesca le industrie di pentolame in industrie di armi e poi dopo dalle armi di nuovo al pentolame per dire voi avete degli elementi un metallo un'industria a fuoco potete farci le spille le pentole potete farci le armi così siete voi siete delle risorse che a seconda della necessità devono essere impiegate in modo diverso siete delle lettere potete comporre parole di odio e poesie d'amore sappiate riconvertirvi perché solo così si risorge d'altronde la farfalla è solamente un bruco impastato cioè sono gli elementi del bruco cambiati di forma e il bruco non c'è più che non dà fuori la farfalla però intanto la farfalla è la risurrezione del bruco quindi si risorge i fanciulli altro che abbiamo un papa che torna imperatore e dopo aver recuperato dopo calma dopo aver di nuovo riassorbito energia dal contesto è come se ci fosse necessità di un periodo proprio di isolamento dalle persone dalle situazioni da lavoro da tutto per poi poter riprendere di nuovo in mano la propria vita e rientrare così subito da protagonista protagonista nel proprio destino senza paura via i serpenti io sono un drago ma cosa vuoi che mi faccia al morso di un serpente disse Zaratustra a me che sono un drago ho paura di uccidermi se io sono più veneroso di te come a dire tu vuoi rubare il caso del ladro ovviamente le mie sono immagini per farvi capire cioè nulla vi può toccare perché siete più forti di quel qualcosa che sembrava potervi uccidere invece voi avete fatto gli anticorpi e quindi sapete reagire e quindi siete immuni eccoci qua bene io volevo vedere come andava e adesso vediamo anche il suggerimento qui si torna allora si torna da protagonisti si torna forti cagliardi tosti come direbbero a Roma abbiamo una persona giusta e qui abbiamo un imperatore un re di spade un imperatore e un re di spade cioè qui i tagli che si devono fare si fanno e la giustizia non è bontà è una cosa diversa la giustizia è la capacità matematica di far derivare la conseguenza da tutte le cause senza che entri in gioco la debolezza cardiaca chiamata misericordia cioè io qui non posso essere misericordioso con te o misericordiosa con te adesso semplicemente dobbiamo tirare le somme e le somme quelle sono le operazioni quelle sono io devo essere un re di giustizia anche perché se non saprò essere un re di giustizia e continuo a tenere nel mio corpo un appendice che non funziona e poi si va in peritonite e poi altro che recuperare le forze poi sono io stesso che accetto nel mio regno il cavallo di troia che farà saltare tutto ah troia fumante così inizia un esame nel 68 ma questa è un'altra storia ve la racconterò un'altra volta anche perché non ero nata in quegli anni vediamo un pochino il consiglio allora consiglio le nostre quattro carte per il consiglio bene abbiamo una bella scacchiera alla base e siamo seduti proprio nella posizione del loto con il primo chakra che tocca a terra la nostra codina l'ultima vertebra quella un po' ricorva e l'osso sacro che è proprio lì vicino vicino si dice che la kundalini dorma come serpente arrotolato la kundalini è un drago di fuoco proprio nell'osso sacro che si chiama sacro proprio perché ha un'energia molto importante una famosa energia che se si risvegliasse veramente brucierebbe altro che tutti i neuroni che abbiamo riescono a gestirla a smuoverla sono alcune persone alcuni illuminati alcuni maestri ma non si sa neanche se in fondo anche loro ci siano riusciti però poniamo il caso che si possa fare comunque l'energia più forte è racchiusa lì e qui cosa stiamo facendo è come se stessimo ricongiungendo la nostra energia quella materiale umana con il suolo con la base e le mani invece accolgono un'energia che viene da sopra stiamo creando un canale di comunicazione comunque sia come nel circuito elettrico si assorbe per scaricare a terra cioè per lasciar passare le energie per l'appunto per ricaricarsi noi siamo aggeggi che consumano energia che la nostra ricarica avvenga con il passaggio del cibo nel corpo perché il movimento delle cellule del cibo genera movimento in noi e non con un caricatore poco cambia perché poi la sostanza è la stessa è il modo ma alla fine alla base è sempre lo stesso identico o diciamo sempre la stessa identica cosa che per frattali tra il più grande e il più piccolo avviene sempre lo stesso modo ecco perché puoi studiare l'immensamente grande e l'immensamente piccolo può aiutarci a comprendere noi qui ci sono tantissime risorse e necessità di proteggersi però vuol dire chiunque è fuori da questo cerchio di protezione nel quale ti sei collocato centro della tua circonferenza deve essere lasciato fuori ancora è necessario capire bene cosa c'è a nostra disposizione e cosa possiamo investire per il futuro ma soprattutto è come se finalmente venissimo rimborsati di una somma sperperata e la seconda volta vogliamo capire meglio in che modo in quali azioni investire ciò che per noi ha valore e quindi non dovete agire subito le carte dicono aspettate ancora un po' chiaritevi le idee continuate a recuperare le forze e aspettate l'intuizione giusta questa è una persona con gli occhi chiusi sta cercando di capire non di guardare fuori perché guardando fuori vi lasciate comunque influenzare ancora vivo il ricordo di profonde sofferenze negli ostacoli che sono presenti nell'intimità della vostra casa nell'intimità dei vostri ricordi e soprattutto sono ancora un qualcosa che vi sfiora a livello proprio tangibile epidermico e sembra quasi questa spada di Damocle pendere sulla vostra testa costantemente quindi non vi meraviglierei se dormire è un qualcosa che non vi riesce bene e se comunque siete ossessionati da pensieri che non riuscite ancora a scacciare questa carta vi viene a dire dopo questa parte rimettetevi al centro del vostro mondo e proteggetevi seconda cosa qui bisogna riscare questo letto cambiate le lenzuola mettetene di nuove compratene di nuove gettate le vecchie iniziate a espellere i ricordi creandone di nuovi piano piano ma non rimanete allanguire così c'è un conto a chiudere gli occhi per focalizzarsi interiormente è un conto a disperarsi bisogna fare proviste per l'inverno per il futuro qui stiamo facendo acquisti e riempiendo un carrello quindi vuol dire che la prospettiva è da qui alla lunga non è da qui a un giorno e soprattutto sembra quasi diciamo una sorta di imposizione che ci si da uscire da casa e andare a fare la spesa cioè uscire da casa vestirci del nostro miglior sorriso e andare a fare proviste tante per noi e per altri sembra quasi che si debba preparare una cena per un invito sembra quasi che si debbano chiamare gli amici le persone care non rimanere isolati perché rimanere isolati in un momento in cui si soffre di solitudine perché una parte che pensavamo essere importante per noi ci ha lasciato e quindi c'è la solitudine di questo abbandono e in più vi isolate anche dal resto andate ad amplificare il vuoto e quindi alla fine rimanete schiacciati da quel vuoto perché è inutile non può esserci nessuna forma di vuoto nulla può essere inutilizzato in natura figuriamoci nello spirito quindi o vi fate una scorpacciata di arte e di qualcosa che vi può interessare iniziate a fare un percorso di qualsiasi natura anche creativo disegnare dipingere seminare coltivare andate a fare uno sport comunque dovete fare qualcosa di nuovo di mai fatto prima perché è come se voi prendete un hard disk cancellate dei file non potete lasciare la memoria non sovrascritta perché tanto quando non andate a sovrascrivere la memoria c'è sempre la tentazione di andare poi dal tecnico che vi sa recuperare foto e video che avete cancellato se invece voi andate a scrivere sopra altre foto altri video la vostra mente il vostro inconscio lo sa che quel che è stato ormai è perduto per sempre e riuscire a fare una cosa del genere un atto rivoluzionario perché vuol dire riappropriarsi della propria vita quindi fanciule e fanciulli qui c'è ancora un piccolo limite piccolo draghetto che si ricollega con il drago di prima qui ciò che vi blocca è il dubbio legittimo ma non corretto per le carte che abbiamo visto che sia anche colpa vostra se la situazione è andata per come è andata magari sono io che ho bruciato tutto ho fatto terra bruciata intorno a me forse io dovrei cambiare forse io dovevo forse io non avrei dovuto sinceramente no sinceramente qui voi potete scegliere semplicemente se rimanere nell'atteggia di ma non sembra muoversi nulla o come fanno vedere le carte tarocchi dei draghi scegliere di rientrare nuovamente nella vostra vita da imperatore e da re quindi il momento è questo ora voi saprete calarlo questo interattivo questa variante saprete declinarla a partire dagli eventi della vostra vita e su di essi fatemi sapere con i vostri commenti e passiamo alla seconda variante perché magari io vi riporto quello che percepisco e vedo però a me magari non dicono niente voi invece potreste trovare attinenza e risonanza con la vostra situazione allora vediamo un pochino bello se avete notato è che nella prima variante l'intento era usare queste carte per vedere la situazione e le altre per vedere il consiglio in realtà il consiglio è arrivato con queste carte e la situazione l'abbiamo vista con le altre d'altronde chi siamo noi per andare a dare ordini alle carte e vediamo adesso cosa accade allora cavaliere di spade cavaliere di spade due possibilità con questa carta ve la faccio vedere un po' meglio vediamo se riesco a metterla a poco meglio forse se faccio lo zoom questo cellulare proprio non vuole mai assecondarmi ecco vedete però devo tornare con lo zoom di prima perché altrimenti è peggio qui ci sono due possibilità uno voi siete il drago e state smaniando perché vi stanno costringendo a vivere e comportarvi per come non vorreste però è inutile c'è quel qualcuno che è riuscito a salire sulla vostra schiena è piuttosto agguerrito vuole quello che desidera vi costringe a procurarglielo e soprattutto vi rende complici delle sue bravate è una persona piuttosto vi verrebbe da dire egocentrata il mondo è il suo mondo e il resto è semplicemente un teatrino nel quale quello che lui desidera deve andare in scena però questo drago non sembra molto felice sembra quasi anche se fa un po' paura con questa bocca aperta chiedere aiuto aiutatemi c'è un pazzo sulla mia schiena che non mi lascia perdere non riesco a farlo cadere non riesco a gettarlo giù da me no si è attaccato con una una piattola sulla mia schiena non se ne va oppure in realtà la situazione è un'altra che voi vorreste effettivamente andare alla conquista di qualcosa però c'è una parte dentro di voi potrebbe essere un inconscio come qualsiasi punto non risolto del vostro passato che inutile si sta si sta lamentando ma è proprio dentro di voi vi dà il tormento voi mostrate una presenza convinta forte motivata e pronta ad affrontare il futuro anche con il sorriso e invece dentro proprio non ci riuscite ancora cioè si ribella si ribella si ribella e vi tormenta quindi due possibilità per questa seconda variante che dire che bella questa carta carta meravigliosa qui c'è un qualcosa che sta per nascere questo qualcosa di nuovo che sta per nascere e quindi potrebbe darsi che voi vogliate effettivamente ricominciare ma c'è la paura c'è il dolore della nascita e soprattutto il dover dare un taglio con il passato nascere vuol dire in un modo o in un altro dover tagliare il collegamento più profondo che ogni essere umano mai avrà con la donna che avrà amato di più in assoluto che la madre ovviamente prendete l'immagine e potete vedere in essa l'uomo che avete amato o la donna che avete amato e quindi il collegamento proprio quello di pancia ha il filo rosso lo possiamo vedere anche nel cordone umbilicale nella placenta e tutto il resto eppure questo drago che sembra molto più amorevole di questo qui guarda questo bambino addormentato che in fondo poi una volta venuto alla luce paura non ne ha e è adagiato su una spada e anche qui abbiamo comunque una spada è come dire un taglio deve esserci però questo non è un taglio di morte non è un taglio ma di emancipazione di libertà di futuro e inizio nuovo inizio ripartire proprio da zero e anche un recuperare un'innocenza che forse diciamo se la vogliamo vedere come esito di tutto quello che è accaduto fino adesso tanto innocente non è più anzi ma non a livello morale ma proprio perché non ci si sente più puri non ci si sente più entusiasti è come se uno volesse dire Mattia Pascal ecco io non sono più solo il fu Mattia Pascal cioè ricomincio da zero ma a me mi ha scambiato per quello che è morto oh ben venga io scappo cioè io ricomincio tutta un'altra vita faccio finta effettivamente di essere morto che me ne importa la più grande forma di libertà che avrò mai ricominciare da zero non da piccolo ma con la consapevolezza che ho oggi quindi qui c'è una nuova nascita e come tutte le nascite comunque ha il suo dolore e ha la sua cesura il suo taglio e l'eremita un'eremita o meglio non l'eremita però è l'absus sono sempre utili quindi caro eremita questo nome di spade che stavo infatti osservando ho detto ma perché ci sono tutti questi appesi dietro l'eremita invece no allora qui abbiamo 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 difficoltà che in realtà sono parte del vostro passato e sono tutti gli apparenti fallimenti che voi non riuscite a lasciare andare che restano lì stile spauracchi a ricordarvi che reiterare sempre lo stesso atteggiamento vi ha portato sempre lo stesso risultato e che quella famosa spada di Damocle del passato se voi passate sotto i vostri tentativi che furono ancora è lì e pende su di voi e per quanto voi vogliate per l'ennesima volta rifare la stessa identica cosa ma quasi a voler prendere in giro il destino entrate in punta di piedi in questa nuova avventura non lo fate perché tanto non lo fregate al destino cioè panotti cioè siete osservati c'è l'osservatore esterno voi non sapete da dove parte in che stanza è nascosto colui che manovra tutte le telecamere che osservano la vostra vita cioè qui voi potete usare tutte le accortezze che volete ma qui rinascere vuol dire tagliare completamente con il passato tagliare completamente con il passato perché altrimenti sarete sempre così appesi stile impiccato ad un albero che sta lì a ricordarvi un po' come monito no? avete presente quando si impiccava spero di no in generale però quando si usava a fare una esecuzione capitale per dare l'esempio al popolo e poi si lasciavano esposti in piazza le persone uccise massacrate ecco è un po' così è come se la vostra vita vi mostrasse in questo momento lo spauracchio di tutte le volte che avete fatto una brutta fine per amore per amicizia quello che è per dirvi ragazzo ma caspita forse è questo l'eremita cioè il tuo grado di saggezza ma non hai imparato niente da quello che ti è successo ragazza ma lui ti ha trattato così può essere che ancora non hai capito che è inutile che fai finta di andare piano piano che questa volta sarà diverso per calcolo di probabilità cioè qui che stiamo facendo stiamo cercando il cigno nero cioè stiamo cercando l'unico caso in cui un fenomeno non si ripete uguale a se stesso per dimostrare che c'è comunque la possibilità di negare quello che stiamo cercando di invece avvalorare con il tempo cigni neri non ce ne sono comunque vediamo cos'altro ci dicono vediamo cos'altro ci dicono le carte quindi qui c'è la possibilità di ricominciare da zero e non intendo da Renato il triangolo no quindi ricominciamo da due non da tre anche ricominciamo da tre qui ci sono tante citazioni ma tanto io lo so che voi riuscite a leggere tra le righe nella mia follia e sapete anche poi mettermi tutti i rimandi delle citazioni film e cose che dico un po' in maniera corretta un po' in maniera così approssimativa allora ricominciamo da due non da tre non da uno e vediamo un po' cosa ci dicono allora abbiamo la nostra monetina c'è ancora un giro di giostra che si può fare dovete scegliere quale attrazione vi interessa di più anche perché avete solo questa signori miei signore mie non c'è possibilità di fare sia il gioco acquatico e le montagne russe no no dovete ragionare bene e quindi non c'è più tempo per cercare di accumulare ulteriori esperienze dovete semplicemente trarre diciamo trarre il risultato la conseguenza da ciò che avete fatto nel passato quindi voi potete semplicemente attingere dal passato nonostante la paura che voi possiate avere dietro di voi c'è un cesto di frutti e siamo in un autunno comunque in una stagione per un certo qual modo anche accogliente con i colori caldi che vi dice però con queste foglie che cadono non è che c'è proprio ancora tantissimo tempo cerca di trovare un riparo prima dell'inverno e possibilmente una compagnia almeno vi mettete davanti al fuoco vi fate una cioccolata calda e fate due chiacchiere perché se già ti senti solo adesso solo ora e poi l'inverno che vai a fare quindi qui abbiamo una monetina e abbiamo un grande desiderio di investirla in un qualcosa che abbia a che fare con i sentimenti noi stiamo guardando nella nostra coppa e siamo piuttosto tristi e sconsolate come a dire ma io ho fatto tanto e qui dentro non c'è nulla è tutto vuoto ok perfetto ma se non ci fosse lo spazio per accogliere il nuovo adesso questa nuova nascita non potreste neppure ipotizzarla figuriamoci viverla e poi soprattutto dalla nascita portarla avanti e accrescere quello che di nuovo la vita sta per darvi come a dire ti trovi in autunno ma la stagione che ti si prospetta una primavera non è l'inverno devi solo essere in grado di accoglierla la coppa è sempre accoglienza la coppa lo diciamo sempre è legata ai liquidi liquidi sono il sentimento profondo dubbio interiore questo è il punto in realtà per questa seconda variante ci stiamo chiedendo avrò ancora un'opportunità prima ancora di decidere come viverla io non sento che ci sarà questa è la paura più grande io sto rinunciando forse è meglio per una volta che questa moneta io la trattenga la nasconda la sotterri per non perderla ricordatevi che Pinocchio che sotterra le monete se le vede portare via e anche il servo stolto a cui il parrone aveva lasciato le monete non le ha investite non le ha fatte fruttare come hanno fatto gli altri servi verrà rimproverato gli verranno tolte anche le monete che aveva cioè per dirvi che nascondere la monetina perso per perso ora come ora non vi serve assolutamente niente vi conviene fare un tentativo anche fosse l'ultimo anche perché voi non sapete che cosa avverrà fuori voi vedete un'unica via e vi sembra un vicolo cieco il problema è che se andate un po' più avanti forse trovate una via parallela un'uscita laterale una via di fuga comunque c'è qualcuno c'è qualcuno al vostro orizzonte anche ben intenzionato probabilmente già vi conosce è abbastanza appassionato è una persona concreta costruttiva i bastoni sono spesso associati a segni di fuoco è una persona che vive una stagione simile a quella che le carte sembrano prospettare per voi una sorta di primavera sembrerebbe anche una persona che in fondo sta pur bene con se stessa non mi sembra di vedere una persona comunque con uno sguardo triste anzi siete molto più tristi voi qui si è piuttosto fieri si guarda avanti e soprattutto si è in atteggiamento di apertura con queste braccia aperte non si ha paura della vita o quantomeno non si ha paura di mettersi in gioco e di accogliere la novità voi avete colori più spenti addosso e questa persona che incontrerete ha colori molto più caldi come andrà? bene 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 quella famosa spada di cui parlavamo all'inizio non posso dire che sparisce perché non è così è uno spauracchio che resterà ancora per un po' e poi prendiamo anche un'altra carta perché questa variante mi resta aperta perché voi in questo momento proprio non ci riuscite a fare questo passo infatti l'autunno va avanti e con il suo vento porta via anche le ultime foglie queste ultime foglie poi vedremo se saranno qualcosa che vi porterà a fare la scelta perché qual è il problema? che queste due tavole rappresentino la nuova relazione o rappresentino la relazione passata questa spada è conficcata nel mezzo e ancora non è arrivato un re artuo in grado di portarla via quindi se è una situazione importante io credo che sia la relazione nuova perché abbiamo una carta di bastoni e qui abbiamo un altare di legno solitamente in questo mazzo ci sono tutti altari di pietra potrebbe essere la situazione nuova che ha una potenzialità che al momento sembra non diciamo spendibile perché perché l'ostacolo comunque c'è e c'è anche una latente gelosia per un qualcosa di vecchio questo drappo giallo vediamo se la carta nuova ecco perché sono curiosa ci parla di qualcuno che riuscirà ad estrarre questa spada o se invece purtroppo qui rimanete ancora un pochino con il vostro dubbio e tocca a voi andare lì e compiere questo atto di forza cercare di liberare voi per liberare anche l'altra persona beh secondo me avverrà questa diciamo liberazione questa emancipazione sarà prima interiore e poi esteriore perché questa carta questo elementale di spade che è bellissimo ci parla proprio di libertà questa carta la possiamo associare soprattutto ai segni di aria penso che sia evidente ma se voi guardate la cosa particolare è che ci sono le foglie guardate guardate se le mettiamo vicine queste due carte e non abbiamo l'uno e il due di spade quindi non c'è un legame voluto guardate come il volo delle foglie segua quasi un unico percorso quindi arriverà allora questa spada siete voi cioè questa spada non è un impedimento esterno questa spada è qualcosa che in voi ancora è fermo guardate come queste foglie circondano la spada e poi circondano questa persona c'è qualcosa che è legato alla sfera dei vostri pensieri l'aria è sempre associata ai pensieri anche le ali alla comunicazione alleggerirvi c'è un qualcosa che deve avvenire dentro di voi quindi vuol dire che a farcela ce la farete non sono ancora maturi i tempi state ancora decantando qualcosa datevi tutto il tempo necessario proprio prendetevi tutto il tempo necessario perché tanto non vi corre dire nessuno e comunque la persona che è dinanzi a voi è una persona ferma non ha fretta ha cose da fare ha tante cose da fare quindi non credo che scapperà almeno non adesso almeno almeno non per questo interattivo bene vi ringrazio un grande bacio e fatevi sapere se l'interattivo è stato utile e fatevi sapere